Grazie Presidente. Noi non siamo soddisfatti del lavoro che arriva oggi in aula, come abbiamo già detto anche in Commissione. Avevamo presentato un progetto di legge che partiva da un principio di tutela della piccola e media impresa, del commerciante. Abbiamo visto anche ieri che il 2014 è stato l'anno in cui le piccole imprese sono state più vessate rispetto agli anni precedenti, arrivando a 43,6% di tassazione, a tutela delle zagre e delle associazioni che fanno l'interesse dei cittadini, che fanno attività sociale sul territorio, che sappiamo che da quando sono triplicate sono quadruplicate il numero di zagre, sono venuti meno anche loro incassi e di conseguenza i soldi reinvestiti sul territorio a favore dei disabili, talvolta dei bambini, dei ragazzi, delle parrocchie. Quindi questa cosa va a tutela non solo dei commercianti che pagano le tasse, ma a tutela anche di quelle associazioni che fanno il bene del nostro territorio e che vedevano nel momento della sagra un momento di ricreazione, di condivisione e anche di un minimo di raccolta fondi che serviva per poter programmare e fare attività sul territorio durante l'anno. E in più ci andava anche la tutela del consumatore, perché se è vero che spesso le sagre tradizionali, quelle che ci sono da più anni, sono fatte a persone che ormai sono specializzate nel volontariato e in questo tipo di attività e quindi sanno anche come manipolare alimenti e bevanti. Ultimamente vediamo invece persone che ha delle sagre improvvisate per fare qualche soldo, si sentono male, vanno in ospedale, ci sono problemi di carattere sanitario e quindi questo andava anche a tutela dei consumatori che si avvicinavano a queste sagre che consumavano e spesso non sapevano della bontà o meno dei prodotti che ingerivano e della capacità o meno delle persone che andavano a manipolare questi alimenti, delle capacità appunto di poterlo fare, di essere in grado di farlo. Quindi questi erano i tre principi che avevano ispirato il nostro progetto di legge. Un progetto di legge iniziale che chiedeva la distanza minima di tempi tra una sagra e l'altra all'interno dei paesi, c'è stato detto che non era possibile farlo per la Bolkestein anche se questo poi noi siamo andati a vedere e abbiamo avuto anche alcuni pareri legali. Questo non era assolutamente vero, tant'è che oggi poi tra i vari vincoli che avevamo inserito nel nostro PDL che sono stati tolti o che c'è stato detto che non potevano essere inseriti la maggior parte sono gli stessi che si vedono nel progetto di legge depositato in quarta commissione che vuole andare a regolamentare la vendita di fiori per beneficenza, quindi quelle tre occasioni all'anno, a differenza di tre sagre al giorno in regione Lombardia vogliamo andare a regolamentare con una legge sicogente la vendita di fiori delle associazioni che spesso tra l'altro capita due o tre volte all'anno e sono delle associazioni più che riconosciute di carattere nazionale, quindi diventa ridicolo. Da un lato dove c'è un forte business, c'è un mercato del nero gigante, noi andiamo a fare una risoluzione all'acqua di rose dove nella prima pagina decantiamo quanto sono belle, buone, le sagre e poi ci accorgiamo tra le righe della seconda e terza pagina che però fanno anche concorrenza sleale a chi lavora, paga le tasse, paga i contributi dei propri dipendenti e invece su una cosa più piccola, questa e anche quella aggiungerei poi degli obbisti, dobbiamo intervenire assolutamente in modo cogente perché lì c'è un business assolutamente incredibile e questo sa un po' di presa in giro perché si poteva intervenire, è prerogativa del Consiglio intervenire, quando abbiamo visto che non c'era la possibilità di intervenire in modo cogente sulle tempistiche abbiamo detto il raccordo anche con le associazioni che rappresentano i commercianti di intervenire almeno in modo cogente sul calendario, lo ha detto anche il consigliere Alloni prima di me, sono molti i comuni che in modo virtuoso programma, mettono insieme le associazioni del paese e programmano e fanno una programmazione e questo si dà un minimo di trasparenza nei confronti delle associazioni e dei commercianti e dei cittadini stessi e quindi ci sembrava interessante almeno inserire questo elemento di coegenza, quindi abbiamo pensato di presentare un progetto di legge nuovo dove toglievamo tutta la serie di vincoli che non trovavano l'accordo del gruppo di lavoro che si era andato a creare e abbiamo depositato un progetto di legge invece che andava ad insistere sull'obbligo ai comuni di fare un calendario e quindi non c'erano burocrazia, c'era semplicemente un po' di buonsenso di mettere insieme le associazioni del paese, mettere insieme i commercianti e i cittadini e riuscire a trovare un accordo e un calendario che fosse un minimo giusto e che fosse un minimo chiaro e trasparente nei confronti della cittadinanza. Anche questo non si è voluto portare avanti, si è voluto inserire poi il calendario e questo minimamente lo apprezziamo all'interno della risoluzione anche se poi ci lascia con un po' di amaro in bocca il fatto che Anci all'ultima commissione in cui si è presentata ringraziava del fatto che il calendario si è inserito all'interno della risoluzione perché così non diventava cogente e fondamentalmente non obbligava i sindaci ad alcunché e allora a maggior ragione questo provvedimento sa di presa in giro. Si era partiti con un'idea e non solo del Movimento 5 Stelle ma anche di parte almeno della maggioranza di intervenire e regolamentare un problema annoso che dura da anni tant'è che la discussione è in atto non da questa legislatura bensì dalla precedente e si è finiti con un provvedimento dove si invita la Giunta entro sei mesi quindi ormai questa stagione estiva abbiamo deciso che la regaliamo ancora a quelle associazioni che tutto fanno tranne che il bene del territorio quindi entro sei mesi quindi entro settembre dovrà seguire alcune linee e dare delle indicazioni programmatiche comuni senza alcun tipo di cogenza obbligo. Per noi questa è la montagna che è un provvedimento che non va da nessuna parte che non obbliga nessuno che non interviene e non va a regolamentare nulla quindi per fare un intervento del genere forse sarebbe valsa la pena non fare nulla o si vuole intervenire a regolare un problema che tutti hanno detto e condiviso esistere oppure si lasciava perdere e si diceva no per noi è un problema minimale, marginale non vogliamo intervenire. Fare una cosa che sta a metà tra un'accogenza quindi un obbligo di legge e un invito della Giunta per noi è qualcosa di completamente soddisfacente ma non solo per noi anche sentiti molti commercianti sia nei territori urbani che in quelli rurali e sentite l'associazione di categoria diciamo che non c'è nessuno soddisfatto di questo provvedimento. Grazie.